Fondi agevolati per le imprese per aiutare l'economia del territorio a terra mano anche a causa del difficile accesso al credito delle stesse aziende in un momento di forte crisi come quello che si sta vivendo in questo momento a livello nazionale e internazionale. E' quello che si sono prefissate l'Intercredit Confidi, Gruppo Consoform e Conf Cooperative che questa mattina hanno firmato un protocollo d'intesa che sancisse di fatto un accordo che prevede un plafond di 8 milioni di euro di finanziamenti agevolati. Oggi l'accesso al credito è comunque un grande problema e quindi con questo accordo diciamo che si danno regole chiare e si mettono in disposizione ognuno nel suo ciò che si ha per fare in modo comunque che l'accesso al credito sia più certo, la possibilità di investire da parte delle imprese cooperative sia salvaguardata e così le altre operazioni che competono comunque il bisogno di finanza all'interno delle imprese. Questo protocollo, questo accordo raggiunto è molto importante per le imprese del territorio anche per la crisi che si sta attuando di accesso al credito però non sono le uniche risorse che verranno messe a disposizione per le imprese. Io mi riferivo anche nella conferenza stampa anche alla legge 37 la regione metterà a disposizione dei confidi o almeno di quelli che hanno determinate caratteristiche dei fondi che dovranno essere destinati a finanziare le imprese socie quindi si riverseranno alla fine sul beneficiario finale che sono le imprese e in particolare accennavo al fatto che di questa massa di denaro che la regione ha a disposizione almeno il 5% dovrà essere destinato al settore delle cooperative.